E dall'altro per fare quello che dici tu, e cioè favorire la cultura d'impresa, utilizzare il talento, perché insomma la nostra sfida un po' per rispondere alla tua provocazione, quello che vorrei fare io è dare la possibilità a queste ragazze e a questi ragazzi di mettere su un'impresa propria, diventare ricchi e sposare uno bello e intelligente. E quindi diciamo avere maggiore gusto da questo. Andiamo avanti, grazie Presidente. Oh, ho fatto così, io ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, scusami, faccio una precisazione, ho la fila e ti spiego anche, credo di sapere perché. Punto primo sono simpatico, no? Punto secondo ho un po' di grano, si sa. Punto terzo la leggenda dice che ci so fare. Punto quarto, pensano lui è vecchio, muore subito e io è reddito. Mi è venuta in mente un'altra cosa che non c'entra niente, però... Difilate da coloro che non sanno l'idea e soprattutto... Applausi Applausi Applausi